Non abbiamo i soldi per riparare questo danno. Il centro calabrese esce a pezzi dal periodo Covid e sta leccandosi le ferite con gli operatori in casa integrazione e da questo posto ci vogliono allontanare, ci vogliono fare male. A questo punto è chiaro che non è solo un atto di vendetta, è un atto di intimidazione per allontanarci dal centro di città. Quindi a questo punto la domanda è...